Grazie a tutti La tieni giù, venga! A zero! A zero! Stai lì? Stai lì, eh! Vieni, vieni! A zero! Corto! Non hai spadano ci altro! Corto! 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 C'è lì! Corto! 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 Sì! 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 Io mi vergogno con voi! Ah, ecco! Sì! 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 No! Corto! 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 C'è bello avere quelle gambe lì! Può stare un po' lì, eh! No, no, non viene su! Non viene su! No, è di là! Sì! Grazie a tutti. Qua sono arrivato di quarta. Arrivo. In seconda come minimo. Qua l'ho fatta di quarta. Come non hai più olio? Andavo a pompeggio. Che hai fatto a finire rosso? Io l'ho fatta di quarta. La terza mano, quella finisce. Non mi girava la terza. Due metri no, ma se non ti lo metti più, non ti rivolgo. Così venuti a su. Secondo me devi aprire prima. Eh sì. Terza sei. Adesso sì. No, prima ero giusto, ma in seconda ero poco gas. Puoi fare anche quarta, ma aprire quando arrivi al ceppo apri già. Non guardare qua. No, la terza va bene. Anche la terza. Ma devo dargli il fuso. Rifi o no? Eh? Andiamo. Andiamo. Sì.